La formica fino a qua, però la cosa che mi dispiace è che si è consumato uno stupro per fare questa serata e da donna, ragazze, donne, mamme, nonne, riveliamoci! Non riusciremo più a fare in giro, non è vergogna! Io ho la vostra lista, rivelando la coppa di Iola, parcheggio nel sotterraneo, alle 7 di inverno che buio ho paure, mi accompagno i miei colleghi. Questa è libertà? Questa è un paese democratico? No! Brava!